L'intervento congiunto della Guardia di Finanza di Pavia e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, coordinato della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma, ha permesso di struncare un vasto traffico di cocaina tra il Perù e l'Italia. Sono stati sequestrati 3 kg di cocaina pura, oltre a sostanza superfacente allo stato liquido, ancora da quantificare, che stavano per essere confezionati per la successiva distribuzione sulla Piazza Lombarda, ma anche al di fuori dei confini regionali. Gli arrestati, di nazionalità peruviana-italiana, di età media di 40 anni, sono stati tradotti a San Vittore a disposizione della Procura della Repubblica di Milano e della Procura della Repubblica di Torino. Le indagini mirano ad accertare le modalità di introduzione dello stupefacente sul territorio nazionale e identificare gli altri elementi dell'organizzazione. Per non destare sospetti, uno dei trafficanti, approfittando della sua appartenenza ad un'organizzazione di volontariato, ha all'istitio trasportato gli strumenti per la raffinazione della cocaina su un'autolettiga, di proprietà della predetta Onlus. Tale operazione si inserisce in un ampio contesto operativo che vede la Guardia di Finanze e i carabinieri in prima linea nel contrasto del traffico di sostanze stupefacenti destilate al mercato Lombardo e Piemontese. Altra parte della bandera è stata arrestata nel giugno 2018 a San Giusto Canavese, dove era stato scoperto sul retro di un bar un laboratorio di cocaina.